Il profilo tweet di Nadia Toffa starebbe per chiudere, l'annuncio sarebbe arrivato nel suo canale ufficiale, contestualmente al lancio della sua fondazione. La notizia ovviamente ha fatto insorgere tanti fan che attraverso i suoi tweet vivono ancora nel suo grande ricordo. Nel ricordo di una donna buona, semplice e buona, in gamba, generosa e soprattutto battagliera fino all'ultimo. Non chiudete il profilo di Nadia Toffa, ha gridato a gran voce una delle tante voci presenti sul web. Non si vuole che questo profilo venga ad essere chiuso anche perché in questo profilo sono presenti diverse foto, diverse immagini e anche diversi post della famosa conduttrice di Le Iene e Iena Italiana, che vi ricordo è morta il 13 agosto 2019, a soli 40 anni di età. Vi ringrazio, vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per l'ascolto di questo video di oggi, iscrivetevi se vi va, commentate, vediamo quello che accadrà in futuro. Questo video non vuole vedere la praga di Nadia Toffa, vedere la famiglia, ma solo informare eventuali persone. Non ci sono per questo motivo, non per altri ragioni. Grazie ancora, al prossimo video.